Rafforzamento dei pattugliamenti a nocera superiore lungo le principali arterie stradali cittadine per reprimere la sosta irregolare dei tir con destinazione alle aziende del territorio. La task force è stata disposta dal sindaco Giovanni Maria Cuofano per il pieno rispetto delle regole sia sul versante covid sia sul versante della viabilità. Altra attività che con il comando di Polizia Municipale in queste settimane abbiamo avviato è quella relativa alla sanzione per gli autocarri che si corrogano in maniera indisciplinata lungo la statale 18. Come i nostri cittadini sanno l'amministrazione è impegnata già da qualche anno per vedere trasformata un'area a ridosso della statale 18 che possa diventare piattaforma logistica che dando dovuto spazio agli autotrasportatori eviti di congestionare nazionali. Ovviamente lì l'amministrazione oltre ad aver pianificato col piano urbanistico comunale non può interferire con le scelte e le decisioni che spettano ai privati ma sta lavorando affiancando i privati affinché la trattativa tra chi deve realizzare l'area e chi deve vendere possa andare a buon fine e possa sollevare finalmente dal disagio la zona di Camerelle. Sempre a Camerelle l'amministrazione è impegnata per dare avvio al bando che ci consentirà di realizzare aria artigianale. L'area artigianale nasce per dare ristoro ai nostri artigiani imprenditori locali e anche per creare condizioni di lavoro nella città di Nocera Superiore. Grazie per la visione! Grazie per la visione!